La musica è alla frutta oppure no? Voglio il tuo punto di vista, non lo so. Sigla sempre più ignorante, come richiede il copione e... La musica è alla frutta oppure no? Parliamo di questo oggi. Intanto diciamo che è arrivato il freddo, il primo vero freddo. Forse era anche ora, io non ne facevo tanto la voglia. L'argomento del video è la musica è alla frutta perché ci sono tanti, tantissimi commenti, quasi tutti, quasi tutti quelli sotto al mio canale, sotto ai video di questo canale, di gente che si lamenta, dice che fa tutto un po' schifo. E in effetti, in effetti, una parte di ragione secondo me c'è. Andiamo a vedere più nello specifico di che cosa stiamo parlando. Dal mio punto di vista c'è un abbassamento culturale importante che sta compromettendo un po' tutto, compresa la musica. La musica è solo una delle cose che sono prepotentemente e velocemente, nel giro di un decennio, che poi non è una cosa così veloce, scese di livello. Andiamo a vedere, vi do il mio punto di vista poi sotto, se volete, nei commenti. Mi lasciate il vostro punto di vista. Questo abbassamento culturale che c'è stato, che è un abbassamento culturale, secondo me è derivato proprio da un cambiamento epocale, anche della fruizione di tutta una serie di cose, tra le quali la musica. Ci possiamo mettere tranquillamente in mezzo il cinema, ci possiamo mettere in mezzo la narrativa. La comunicazione in generale, forse è colpa dei social, non lo so. Io penso che la tecnologia, se viene usata bene, sia sempre un'arma importante. Se è usata male, beh, insomma, ecco, allora lì cambia tutto. Ma siccome questo è un canale di musica, un canale musicale, vorrei parlare della musica, perché la frase, la musica e la frutta, io la sento dire continuamente. Partiamo dal fatto che la maggior parte della musica che voi sentite non è suonata. Non è suonata con strumenti organici, come una chitarra con la quale ho fatto la sigla ignorante, ma è fatta in un modo che adesso velocissimamente io vi dimostro. Esiste una piattaforma che si chiama Splice, ma voi i campioni Samples, li potete trovare praticamente dappertutto, che vi dà dei campioni. Ora, i campioni che cosa sono? Non sono altro che dei frammenti sonori, che voi poi potete amalgamare. E, credetemi sulla parola, non lo so, la percentuale, ma il 70, l'80%, almeno se non di più, della musica che voi ascoltate, che passa alla radio, nella radio di tutto il mondo, ma soprattutto le radio italiane, poi arriveremo a parlare in modo specifico delle radio, che mi stanno particolarmente sui coglioni, e non uso giri di parole. La musica che voi ascoltate viene fatta in questo modo. Ora, cosa facciamo? Io ho preparato questa mini sessioni per tu, su cui ho caricato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 samples di Splice. Di questa piattaforma dove tu, pagando una modica, veramente modica, cifra mensile, puoi accedere, non so, io tipo, ho, insieme a mio figlio, 1600 crediti, cioè 1600 samples che posso ancora prendere, paghiamo veramente poco. Cosa ho fatto? Ho preparato questa mini base, ho messo un BPM, a me che in questo caso è 160 e ho caricato questi sample. Ci sono praticamente due sample che fanno il beat, la ritmica, e tre sample diversi. Ve li faccio sentire velocissimamente, proprio così al volo, no? Questo è il primo. Da che cosa è costituito? Chiudo la parte, diciamo così, armonica, se così vogliamo definirla, da questo beat. Non l'ho fatto io, eh, l'ho trovato, l'ho pagato. A cui posso aggiungere questo beat, che fa un po' di danni. Insieme succede questo. Poi apri una parte armonica, che è quella di prima, no? No, questo è un altro, ho già cambiato. E questo è un altro pezzo. Che è anche carino. Mettiamone un altro, dai. Insomma, così così, vediamo se l'ultimo è più bello. Ecco, quanto ci ho messo, non lo so, boh, un minuto, minuto e mezzo. Questi sono quattro potenziali beat, beats, beat. Su questi beats voi potete chiaramente fare le cosiddette top line, che adesso si chiamano più melodie, si chiamano top line. Che fatica, eh? E quindi si chiama un top liner, che cosa fa? Che fa una linea melodica, ci mette delle parole. Spesso il procedimento qual è? Che si prende una top line già esistente, fatta da uno inglese, americano, a metà tra il rap e la trap, si fa una specie di parafrasi e la canzone è pronta. Si trova un titolo abbastanza bizzarro, originale, insomma, non così di uso comune, e la canzone è pronta. Poi voi dite, ma perché tutte le canzoni suonano uguali? Suonano tutte uguali perché vengono fatte tutte così. Vengono prese al 90% da campioni di Splice, come ho fatto io adesso, ma ci ho messo veramente, non lo so, un minuto a preparare la sessione. Poi è chiaro che adesso servirebbe la top line, serve un'idea di testo, ma come vi ho detto spesso, l'ho detto anche in tanti altri video, non è una critica, è un dato di fatto, la costituzione, le melodie sono tutte fatte un po' così, quando sono svalangate, sbadilate di metrica, con parole più o meno che suonano bene, che non vogliono fondamentalmente dire un cazzo, senza storytelling, poi arriva il titolo alla fine del chorus, o ogni tanto le faccio così anch'io, non è che voglio fare quello puro, non lo sono, perché questo è il mercato, ogni tanto richiede. Però la musica suona tutto uguale, quindi la musica è alla frutta, uno dei motivi per i quali la musica potrebbe essere alla frutta, è che servono le canzoni, ma le canzoni fatte così, come ho appena detto, sono quasi tutte uguali, perché vengono fatte tutti un po' con lo stampino, come si diceva una volta, no? E fare i beat è così difficile? No, non è affatto difficile, li può fare chiunque, i beat li può fare chiunque. E come dicevo prima, per fare la melodia, basta prendere una hit di Dua Lipa, o una di Post Malone, basta taroccarle un po', capire che funzionano i sedicesimi, non ripetere sempre la stessa cellula, è più o meno il gioco è fatto. Un titolo abbastanza bizzarro quanto ignorante, e il gioco è fatto. Funziona più o meno così? Siete d'accordo o no? Ditemelo nei commenti. Però c'è un però. Quando io lavoro, e spessissimo, soprattutto in questi ultimi tempi, lavoro con produttori molto giovani e bravi, che sanno invece suonare, suonano bene tutto, il pianoforte, la chitarra, il basso, conoscono bene la teoria musicale, la differenza dei pezzi cambia da così a così, cioè non è più questa roba qui che può fare anche un bambino, ma le canzoni sono oggettivamente belle. E questo perché? Perché comunque conoscere la musica è indispensabile per fare musica. Esattamente come allenarsi, se sei talentuoso a tennis, serve per poi andare avanti nella classifica TP, e in tutte le cose del mondo. Per scrivere un libro dovresti leggere, ma la maggior parte dei libri che vengono scritti, sono scritti da gente che non sa neanche leggere, quindi come fa uno a scrivere se non sa leggere? I conti non tornano. E quindi arriviamo alla prima conclusione. Se in Italia la musica non sta benissimo, ma nemmeno il mondo sta benissimo, però in Italia forse sta un po' peggio rispetto ad altri paesi del mondo, è perché la musica fondamentalmente è tutta uguale. Poi un giorno arriva Kate Bush, con una canzone bellissima degli anni Ottanta, che si chiama Running Up The Till, che viene inserita nella colonna sonora di Stranger Things, dico bene, e questa canzone, boom, parte, schizza in alto, e va prima in radio, va in tutte le classifiche di Spotify. Come mai? Come mai una signora, quanti anni ha? 65, non mi ricordo. Una signora di mezza età, definiamola così, gentilmente, bravissima, eh, per l'amor di Dio, che a me è sempre piaciuta tanto, improvvisamente si ritrova prima in classifica in tutto il mondo, grazie al fatto che i giovani, i giovani, quelli con tre G davanti, hanno sentito una bella canzone, hanno detto, cazzo, ok, va bene, è dentro Stranger Things, però, però mi piace molto questa cosa qui, quindi la voglio ascoltare, di nuovo, una volta, due volte, tre volte, perché non credo proprio che Spotify l'abbia messa nelle playlist editoriali, non ci credo, credo che lì siano stati proprio i giovani ragazzi, comunque chi ha visto la serie, a dire, oh, la vado proprio a cercare sta canzone, hanno shazammato, come si dice, hanno prima googolato, e poi shazammato, poi sono andati a riascoltare, 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 per rivivere quel momento, non spoilerò niente, momento magico, magnifico, dell'ultimo episodio, dell'ultima stagione di Stranger Things. Bene, questo cosa ci fa pensare, ci fa dedurre, che è, se i giovani, i ragazzi, ascoltano della buona musica, non la respingono tutt'altro, la vogliono, la vogliono assolutamente, e la vanno a cercare, la vanno a cercare, che è il procedimento di base, quello di non subire, ma di andare verso la musica, e non quello di subire la musica. Poi qualcuno può dire, ma allora perché comunque le radio vengono ascoltate, perché viene ascoltata così tanta musica, voi lo dite, non lo dico io, è musica de merda, perché viene ascoltata così tanta musica de merda, come dite voi? Viene ascoltata semplicemente perché l'orecchio si abitua, si abitua ad ascoltare un suono, che diventa una sorta di musica di sottofondo, come quando siete in una sala d'attese, e questo è quello che praticamente è successo, e sta succedendo tutt'oggi con la musica, fino a che non arriva poi Kate Bush, che sovverte tutte le regole, che fa saltare il banco praticamente, no? E questo è quello che è successo. E qui non possiamo però non fare un altro discorso importante, dobbiamo farlo, perché dobbiamo parlare per un attimo di educazione musicale. A scuola chi è che insegna musica seriamente? La materia, non lo so, credo si chiami ancora educazione musicale, suppongo, io ho insegnato educazione musicale per qualche anno, boh, 5-6, fino al 1997, e vi dico la verità, spero che nessuno si offenda, ma io non ho mai conosciuto uno, a parte me, che ci tenevo davvero, che insegnasse educazione musicale, perché tutti che cosa facevano? Facevano suonare il flautino, pipiri pipi, esattamente così, e poi ti dicevano studia la vita di Beethoven da pagina 112 a pagina 119, questo era quanto, poi venivi valutato in base a che cosa? Praticamente era gente che rubava lo stipendio. Sto parlando solo di quelli di educazione musicale, perché lì posso dire la mia, in altre materie, taccio. Poi non lo so, invece un giorno io sono entrato e ho detto, ragazzi, ma non è che è meglio se facciamo degli ascolti, e gli ho fatto ascoltare Kind of Blue di Max Davis, pensando che questi mi avrebbero gentilmente mandato a fanculo, credo che fosse una terza media, o una prima o seconda magistrale, e invece questi ragazzi inaspettatamente mi hanno detto, prof, ma questa cosa qui è bellissima, ma che cos'è? Ma io ho detto, ma come che cos'è? Max Davis è il più grande jazzista di tutti i tempi, una delle persone che ha fatto la storia della musica, che ha cambiato la storia della musica, per mille motivi. Io sono sicuro che loro, anche oggi che sono passati tanti anni, sanno chi è Max Davis, si ricordano di aver ascoltato quella roba lì, che per loro il jazz era una roba, cioè già la parola li faceva vomitare, perché basta semplicemente fargliela ascoltare la musica, bisogna avvicinare i ragazzi alla musica, non far sì che i ragazzi la respingano. E qui passiamo ad un altro argomento, ancora dentro lo stesso argomento, cioè se la musica ha la frutta. Parliamo di nuovo delle radio, perché? Perché le radio hanno una grande, immensa, sterminata responsabilità, perché le radio che passano sempre la stessa emenata, la stessa roba, roba così, roba fatta così, per la maggior parte, italiana, straniera, cioè qui non facciamo differenze, capito? Hanno enorme responsabilità, perché le radio se ne strafoltano, educare l'orecchio della gente, quella dei ragazzi, non gli importa niente, ma perché poi dovrebbero farlo? Appartengono a dei gruppi editoriali che sono stati costruiti per fare denaro, per fare business, la musica è solo un tramite, non a caso infatti di musica ce n'è poca, c'è più gente che parla che canzoni, e anche questo, sai, perché io devo ascoltare la radio, uno che mi fa ridere, poi fanno ridere, boh, a me non fanno ridere per niente, magari a voi sì, sempre nei commenti, se vi fanno ridere, gli speaker radiofonici, dite a me uno perché forse lo scemo sono io, ed è una probabilità. Le radio hanno una responsabilità pazzesca, tipo quella delle reti berlusconiane, che hanno abbassato il livello culturale, come una serie di programmi che non sto a delencare, ma tanto sapete, ne dico uno, cioè il grande fratello Vip, capito, hanno abbassato il livello culturale al 0,1%, sotto c'è solo, non lo so, il pavimento. La musica andrebbe rispettata, ma secondo voi, il programmatore di radio, mi si chiama Radio Mario, la rispetta? Provate a ascoltare quello che passa, terrificante. Altro punto, la musica in Italia è quasi tutto uguale, quasi tutto uguale, tranne rarissime eccezioni, che poi tra l'altro a voi stanno pure sul cazzo. Qui mi devo aiutare, perché sennò dopo sbaglio, poi voi mi dite, ah ma dici delle inesattezze, eh no, ma sono andato a vedere, non era così. Dicevo che, non lo so, all'estero ci ascoltano tutti i generi, qui no. Perché, vi faccio alcuni esempi, non lo so, Tello Swift, Sheeran, la stessa Dell, è in Italia disco di platino, quindi 50.000 coppie, conteggiate poi come, adesso questo sarebbe anche un altro argomento, ma non abbiamo tempo e non ne ho voglia. Ed Sheeran, disco più venduto dell'anno, poi vi metto la schermata, qui, qui non so dove la metto, la metterò qui, credo, dei dischi più venduti, ad oggi, del 2022, disco più venduto, è Ed Sheeran. Ed Sheeran in Italia ha preso un platino, e quindi vuol dire che ha raggiunto, oltrepassato, le 50.000 coppie. Ma cazzo, ma vi sembra possibile? Cioè, lo sapete quanti stadi sold out ha fatto Sheeran quest'anno? Non lo so quanti, 50, 60, 80. Vogliamo parlare dell'ultimo dei Coldplay? Ok, non è l'album più bello che hanno fatto su questo concordo, ma ad oggi, in Italia, lo sapete? Quante coppie ha venduto? Andate a vedere sul sito della Fimi, certificazione, scrivete Coldplay, 25.000 coppie, certificato oro, vi sembra normale? Però fanno quattro date a San Siro sold out, preste dei biglietti, li conoscete, non ve li devo dire io. E nel 2022, se non vado orato, hanno fatto 65 stadi tutti sold out. Anche qui i conti non tornano. Che succede? Quindi, per chiudere il discorso, io direi che la musica non è alla frutta, perché la musica non sarà mai alla frutta. La musica comunque reagirà e reagirà sempre, anche ai terremoti, agli uregani, ai cataclismi. Tra l'altro, io ho appena partecipato un mese fa a un camp bellissimo della mia società editoriale, che si chiama Curci, e ho lavorato con un sacco di autori, tutti, tutte le età, uno più bravo dall'altro, dai 20 ai 60 anni. Fenomeni. Quindi, cioè, la musica è in buone mani. Il problema, eventualmente, è quello che succede dopo, quando le canzoni sono state scritte. Dopo potrebbero arrivare dei problemi, e oggi vengono elencati alcuni. Tra l'altro, e qui cadiamo sempre sui soliti argomenti, sulle solite tematiche, chi odia, chi disprezza i maniskin, dovrebbe solamente ringraziarli, perché i maniskin, per la prima volta, negli ultimi, non lo so, 10-15 anni, hanno mostrato, hanno fatto vedere a degli adolescenti, che cos'è una chitarra. Una chitarra, ragazzi, questa è acustica, loro si mostrano soprattutto con delle chitarre elettriche, ma anche questa è una chitarra, e neanche di elettriche, ecco, oggi facciamo anche le elettriche, ecco. Loro arrivano con la chitarra, loro suonano questa, ragazzi, giovanissimi, giovanissimi guardano il mio canale, non sono tanti, sono il 9%, quindi bisogna alzare la media. Giovanissimi, ragazzi, questa qui è una chitarra, questa si chiama chitarra, ha sei corde, normalmente, poi ci sono anche delle chitarre a dieci corde, poi c'è anche la chitarra baritono, si suona così? Qualcuno starà ridendo, starà pensando che io sto facendo il coglione, non sto facendo il coglione, i ragazzini pensavano che la musica si facesse col pc, i manischi sono andati sul palco con la chitarra, e molti hanno detto, cazzo, ma quella lì, cos'è questa cosa? Non lo sapevano, pensavano che la musica si facesse solo così. Anzi, A questo punto potrei partire con un pippone pazzesco sul ruolo dell'autore, cosa deve fare l'autore nel 2023, perché poi questo, essendo un canale educational, è di questo che dovrei parlare, ma di questo ne parleremo in un prossimo video. Se questo video e gli altri video vi sono piaciuti, iscrivetevi al canale, lasciate un like, un commento, commento importantissimo, seguitemi su Instagram, perché quasi tutti i giorni, diciamo un giorno sì, un giorno no, faccio dei reel di chitarra, dove faccio vedere delle cose, credo, credo, mi auguro interessanti. Noi qui ci salutiamo, e come sempre cercate di fare buona musica. Ciao, alla prossima.